Estra, Lancia e Cube Challenge, che è un'iniziativa che abbiamo promosso per trovare idee originali e possibilità per le start-up di presentarci progetti che noi poi selezioneremo, che siano attinenti alle aree dell'innovazione tecnologica legata al problema energetico, all'efficienza energetica, legata alla commercializzazione dei prodotti energetici, legata alla parte dell'IoT, della lavorabilità elettrica, dei guidata, insomma una serie di attività molto importanti. La cosa che mi verrebbe da dire è partecipate, fateci vedere le vostre idee, le vostre possibilità, quello che avete già fatto, perché Estra, Lancia e Cube selezionerà poi le idee, i pugeti più innovativi e più attinenti, diciamo che hanno anche maggiore, non sopito, possibilità di distribuire. Se premeremo in una giornata d'affari a Firenze, premeremo le tre idee originali, più innovative, più convincenti. Quindi partecipate, più sarete, meglio.